Nasce Forza Nuova a Mazzara del Vallo, oggi si inaugura appunto questa nuova apertura, questa nuova sede qui a Mazzara del Vallo a rappresentare Forza Nuova, la crescita di Forza Nuova, Gasperi Accardo. Accanto a me è Roberto Fiore, il presidente di Forza Nuova. Come procederà questa nuova avventura su Mazzara del Vallo? Ma innanzitutto non si inizia da zero, qui c'è stato un importante movimento di protesta che oggi si sposa con Forza Nuova in un'idea di Italia, di Sicilia, di Mazzara che è profondamente diversa da quella che ci hanno lasciato i politici. Oggi si tratta in un certo senso di fare tabula rasa di quella che è stata la vecchia politica e inaugurare una nuova forma di politica concreta ma agganciata ai grandissimi ideali e in questo senso penso che il matrimonio funzionerà. Quindi in che modo far crescere qui la famiglia di Forza Nuova? Su quali basi? Beh, noi sappiamo che Mazzara come tante altre città sta affrontando delle emergenze gravissime. Pensiamo al discorso di questa nuova immigrazione, pensiamo al discorso della pesca o dell'agricoltura, dell'artigianato che sono state massacrate in questi ultimi anni, noi riteniamo che si debbano fare delle proposte concrete e si debba uscire da quella che è un impasto che oltretutto ha voluto l'Europa con le sue burocrazie che non sanno nulla del territorio e noi siamo lì proprio da sentinella del popolo per far rinascere un discorso che sia popolare, concreto, legato a quelle che sono le tradizioni profonde del nostro popolo. Quindi creare anche una nuova classe dirigente? Assolutamente sì, ecco lei dice una cosa interessante, quello che distingue Forza Nuova dagli altri partiti è che Forza Nuova attraverso la lotta, il sacrificio, gli ideali e sostanzialmente anche una dottrina che si presenta con dei punti fermi molto forti, oggi può dire all'Italia di avere una classe politica pronta, dal Piemonte alla Sicilia e riteniamo che sarà rapidissima la formazione di una classe politica qui nel Trapanese e a Mazzara. Gasperi Accardo che sarà il referente qui su Mazzara del Vallo di Forza Nuova, una nuova emozione, una nuova esperienza, una nuova avventura davanti? Sì, sicuramente, è una cosa diversa da quello che è stato fatto prima perché noi dal lavoro, dalla crisi siamo scesi sulle strade per manifestare il nostro disagio delle nostre famiglie, delle nostre aziende, abbiamo fatto delle grosse manifestazioni, Mazzara con la protesta si è creato uno spazio in tutta Italia di conoscenza molto importante, da lì sono cominciati questi confronti, i nostri ideali che è il nazionalismo, che è la tutela delle nostre famiglie e delle nostre aziende, dei nostri prodotti e noi in Mazzara siamo lo specchio dell'Italia perché la marineria di Mazzara del Vallo è morta ed è morta tutta la città, quindi c'è un lavoro molto forte da fare, non di chiacchiere ma di azione sia nel sociale che in tutti i sensi, di stare in mezzo alla gente, di aiutare la gente, di portare il rispetto fra noi cittadini e la cosa importante che manca realmente è questo, quindi noi saremo ora di oggi in poi attivi e saremo una figura importante in città.